quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore anzi il cantastorie 30 anni di vita canzoni viaggi persone storie appunto e ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'auditorio un parco della musica ennio muricone di roma incontro persone amici colleghi che per un motivo o per l'altro per me sono state o sono importanti io sono daniele silvestri e questa è le cose che abbiamo in comune un video podcast targato fandango live signore e signori anna foglietta ciao ma sono arrivata io che non mi sento candidata buonasera a tutti buonasera peccato rovinare tutto ciò con la sigla che starei per sentire perché ora sei finita all'interno lo dico anche per quelli che non sapessero di un piccolo talk una chiacchierata che diventa anche un podcast e ha un titolo geniale come puoi vedere svariati gli autori ci si sono messi e una meravigliosa sigla vai con la sigla fa cagare lo so no non è vero è bellissimo no no ma la facciamo apposta perché così poi l'ospite si sente a suo agio perché dice perché sei così censorio verso te stesso è fantastica era veramente un obiettivo fare una sigla brutta un po' da trasmissione televisiva anni 90 quelle cose lì non so se ci siamo riusciti ma secondo me sì lo sai che mi viene da chiamarti presidente beh dipende insomma dipende a quale presidente alludi perché ogni tanto chiamare presidente fa un po' paura lo so fa paura qualcuno chiama presidente pure me e fa paura anche a me però nel mio caso non vi fate riconoscere so chi siete non vi fate riconoscere no nel mio caso inizio da qui che è la fine forse o comunque dove la nostra conoscenza che prima magari era più così marginale anche se insomma questo caso per quanto mi riguarda è stato un po' un unicum per te meno ma ho un bellissimo ricordo di quella anch'io di quel film e di quel momento peraltro il primo momento in cui l'ho sentito cantare la prima volta che hai fatto al primo ciac e hai aperto la bocca e subito dopo si è sentita la signora che ha detto sta a vedere un tocco perché erano le 5 di mattina confermo però in realtà questa cosa è diventata altro in questi ultimi anni parto da lì per un attimo perché poi mi interessa capire visto che ti ho conosciuta meglio insomma per me è la presidente di una piccola meravigliosa cosa che si chiama every child is my child ogni bambino è il mio bambino che è una onlus di cui facciamo parte un bel po' di personcine ma chi l'ha pensata, chi l'ha voluta, chi da allora a suo malgrado credo anche guida tutto ciò e per questo è la nostra presidente è Anna Foglietta ora magari ne parliamo anche un po' meglio forse ci abbiamo anche da vedere volendo qualcosa che la ricorda ecco quello che c'è adesso in questo momento fra l'altro sul sito e poi forse si sono viste altre immagini non lo so tanto ne eravamo girati mi sa che c'è anche una foto che ricorda un momento particolare quando ci siamo trovati a fare anche un concerto, uno spettacolo che è stato un momento molto bello prima ci siamo dovuti ricordare però l'anno in cui tutto questo nasceva era il 6 aprile del 2017 ah quindi anche il giorno abbiamo ricostruito sì sì, festeggiamo quasi 7 anni che succedeva in quei giorni? succedeva che io ero sul set di un film ed ero ambassador di Save the Children e mi arrivavano continuamente notizie e mail da parte di quelle che erano le aggressioni che subivano i bambini nel conflitto all'epoca in Siria e da semplice ambassador mi sentivo totalmente inefficiente e non compiuta in quello che poteva essere il mio essere artista a servizio di una causa umanitaria per cui andando sul set mi sono inventata una chat nella quale ho messo dentro più di 200 artisti tra cantanti, registi, attori, scrittori chiedendo loro se avessero voglia insieme a me di creare un'onda di sensibilizzazione contro la guerra in Siria per gridare il nostro basta al conflitto cosa che mi fa piuttosto sorridere perché mi domando per quale motivo ora non lo stiamo facendo perché all'epoca c'erano delle immagini violente, violentissime ma i bambini che sono morti nel conflitto in Siria nel corso di 10 anni di guerra sono 12.000 e in quattro mesi a Gaza sono arrivati a 13.000 13.000 bambini, sì, 35.000 civili quindi io parlo di bambini quindi mi domando comunque beh, non entriamo troppo nel merito no, entriamoci quanto basta per dire che tutto ciò va affermato quindi se ne parliamo non è solo per parlare di quella Ollus ma è perché almeno noi qua ma spero anche molti di qui là non abbiamo molti dubbi non si tratta come magari ci vogliono raccontare di uno scontro di religione o di un fatto appunto che c'entra con l'antisemitismo o no lì ci sono delle persone che vengono c'è un popolo intero che viene sterminato quello sta succedendo quindi che questo debba essere fermato va al di là di qualsiasi valutazione di come le cose sono nate, successe come è iniziato quel 7 ottobre orrendo, nessuno lo nega e la cosa più grave, la cosa più grave sulla quale mi interrogo profondamente è che al netto dei bambini che purtroppo non ci sono già più altrettanti stanno morendo di fame e altrettanti cresceranno inevitabilmente con un trauma legato a quello che sta succedendo e con un odio che nessuno di noi potrà condannare né giudicare ma potremo soltanto secondo me accogliere perché di fatto dei bambini che cresceranno sapendo che gli è stata sterminata la famiglia sotto gli occhi non potranno che crescere con un seme di odio all'interno della propria anima e del proprio cuore poi siamo tutti in grado di giudicare in maniera perentoria in maniera transciente quello che succede ma è molto più difficile cogliere quelli che sono i segnali che potevano essere evitati e io questo penso purtroppo e sarà tardi poi inevitabilmente sarà tardi quindi quello che mi auguro è che la comunità internazionale come è avvenuta adesso chiedendo il cesso del fuoco almeno per il Ramadan si prolunghi e che possa trovare veramente una risoluzione definitiva perché quello che sta succedendo è vergognoso io ho visto da poco un film bellissimo dal titolo La zona di interesse quello che ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero e mi ha profondamente colpito nonostante appunto proprio perché parlava di holocausto ma l'indifferenza ecco l'indifferenza è qualcosa che mi indigna profondamente e se c'è una cosa che proprio io guardandomi allo specchio non vorrò mai essere è indifferente non è un caso se sono partito da qua con gli altri ospiti che si sono susseguiti sono sempre iniziato da cose biografiche dal loro inizio ma invece volevo partire da qua perché un po' perché adesso mi interessa invece andare a capire come sei diventata così così che vuol dire si può interpretarmi le modi nel senso che sei una bravissima attrice sai cantare da paura però io te ho scoperta anche battagliera ma non solo battagliera giusta e non è una parola che uso spesso allora mi chiedo c'entra col fatto che sei nata in quel quartiere lì? Testaccio? beh sicuramente c'entra sicuramente la mia storia familiare perché ho un padre romano di Testaccio e una madre napoletana madre napoletana che è cresciuta a Napoli nella Napoli della guerra e quindi sono cresciuta con un senso di ingiustizia mia madre mi ricordo che è orfana con le sue tre sorelle non faccia un altro che parlare di tutto quello che hanno vissuto a Napoli dal 41 anno in cui è nata fino a quando se ne sono venute a Roma e quindi questo racconto questo racconto continuo di sopraffazione di guerra di conflitti di abusi eccetera mi ha proprio sempre fatto venire voglia di lottare e di in qualche modo di fare il mio poi ti posso dire però anche una cosa io penso che ci si nasca io sono madre di tre figli e a tutti e tre comunque gli racconto le stesse cose sono madre uguale per tutti e tre però di tutti e tre io una vedo che ha ereditato la mia al mio fuoco e il mio seme e penso che un po' ci si nasca io penso di esserci nata mi ricordo che avevo in classe una ragazzina rom che quando facevamo la nostra preghiera questa usciva e io dicevo alla maestra l'unica che diceva alla maestra scusami perché questa deve stare fuori non dobbiamo stare dentro mi diceva perché c'è di un'altra religione dico vabbè ma è assurdo voglio dire quindi anche allora mi domandavo delle cose avevo un compagno di classe che era molto complicato scusa se la domanda è stupida ti dava fastidio l'ingiustizia oppure volevi usci pure diciamo no all'epoca ero secchiona poi c'ho avuto altre no no mi dava fastidio l'ingiustizia vabbè testaccio ci poteva stare perché io in realtà ci sono arrivato in quel quadrante di Roma in realtà vengo da Roma Nord ma a un certo punto dopo essere stato via per un po' quando ho avuto bisogno di di una Roma che mi insomma mi stesse attaccata appiccicata il primo posto in cui sono andata a finire è stato testaccio l'altro dove adesso sto è Garbatella che cito perché perché in realtà ci sono delle delle cose che sono state importanti proprio da subito per te no credo anche quel liceo che frequentavi che era il Socrate e che quindi ti portava dall'altra parte dell'ostiense diciamo sì sì perché mia mamma appunto ha avuto una grandissima intuizione pur essendo una donna che non ha studiato ma una donna molto intelligente forse la donna più intelligente che io conosca mi disse all'epoca quando mi sono diplomata alle medie che già da testaccio che testaccio negli anni 90 era un quartiere abbastanza hardcore non è il quartiere di adesso era un quartiere estremo per cui mi disse no no tu alle medie non andrei a testaccio ti mando alla ventino una scuola pubblica ma alla ventino sul colle quindi figuriamoci io mi sentivo proprio un'ascesa di classe sociale tremenda ma anche un profondo senso di inadeguatezza perché là c'erano tutti i figli di ambasciatori dei politici giornalisti io ero figlia di nessuno de fatto comunque fatto sta che poi al liceo invece già che perché in classi avevo la figlia dell'ambasciatore cubano all'epoca per cui questa mi ha spiegato tutto dice Guevara di fatto mi ha messo un seme dentro che non si è mai levato quindi mia mamma mi disse adesso tu te ne vai al Visconti Ramona ascolta bene a lei da Guevara io l'ho conosciuta mia mamma mi disse adesso tu dopo le medie te ne vai al Visconti leggera se era fatto tutto il suo piano ho fatto nonno al Visconti è pieno di pariolini no no poi c'è stato Giulio Andreotti a me non mi piace io voglio andare al Socrate che c'è stato Paolo Fox quindi ho preferito l'astronomia alla DC insomma io mi reputo coerente io mi reputo coerente e quindi in quel liceo però ho scoperto la mia passione perché ho scoperto l'arte ho debuttato al Teatro Palladium e la Garbatella per me è stata ho occupato un centro sociale ho preso le botte da quelli del bar del Sette Le Denari ah sì? sì 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 ci ho preso le botte hanno provato io corro io corro io sono gazzella non mi hanno preso però insomma ecco tra Testaccio e Garbatella devo dire che forse la mia formazione battagliera di militante è più stata legata alla Garbatella però ti voglio dire una cosa quando tu sei stato a Testaccio hai vissuto nel mio palazzo tu forse non te lo ricordi forse no certo non te lo avevi detto tu stavi al terzo o al quarto piano mia madre stava al secondo io già ero un po' andata via ma tu stavi lì con Simone e i tuoi figli sì è vero ti ricordo è vero che te la rabbia tre vabbè scusate lasciateci un attimo ma tu in quel luceo hai conosciuto un certo Paolo è lì? è un attimo è diventato Barbara d'Urso ma com'è? ma no è sempre per raccontare queste perché secondo me c'entra pure quello nel senso abbiamo una foto pure di Paolo tanto facciamo Barbara d'Urso fino a fu guarda che bel ragazzo perché fra l'altro mi sembra che poi vabbè poi è molto dopo che siete diventati una coppia sì dunque è stata la prima persona che ho incontrato al liceo ma non gli parlavo è un po' inquietante così ma la foto non era sì sembra un po' ti posso dire un po' emanescente ecco perché avevamo fatto i figli eccole è stata la prima persona che ho incontrato sulle scale della scuola e ho detto oddio se cominciamo così andiamo benissimo fantastico poi vengo a scoprire che era laziale e quindi no aspetta però aspetta no 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 aspetta è il punto a cui volevo arrivare scusa fai vedere le immagini che avremmo messo subito dopo aspetta guarda che per la prima volta lo faccio solo stasera non si vedrà mai più alzio che giro perché nella tua famiglia coesistono no in realtà non coesistono questa è una storia che io spero venga posso spiegarla in due minuti devi non è che puoi perché può essere che te mando io però io mi auguro che voi l'accogliate e che la possiate capire e comprendere allora io sono nata a Testaccio nel 1979 a Testaccio non è che potevi essere di un'altra squadra se non della Roma tu dovevi essere della Roma e i laziali gli emanavano per cui io c'avevo paura cioè nel senso sono cresciuta pensando che io dovessi essere romanista e sono stata romanista poi ho cominciato a lavorare ho cominciato a studiare Brecht e di fatto a me della Roma mi è cominciato a interessare no 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 perché così sembra una cosa superficie non è superficie è profonda è profonda poi incontro mio marito dopo 17 anni che per me era sempre quello della Lazio e comincio a frequentare la sua famiglia e io comunque quando vedevo le partite mi favo Roma perché comunque io sono nata a Testaccio poi però piano 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 vedevo che il loro essere tifosi era molto più corrispondente al mio e io mi sentivo in colpa rispetto a questa cosa sai quando le senti sporca dici ma com'è possibile che io sono romanista però sono profondamente attratta da questo modo di fare da questo modo di essere com'è che sono attratta dalla Lazio perché te piaceva Paolo no mica sono così cretina non so speravo che fossi no ci sono finita in terapia cioè io inizio la fatta non è vero poi in realtà ho incontrato la mia terapeuta che è laziale e quindi definitivamente sono diventata la Lazio no non è vero vola un'aquila nel cielo beh lascia il posto a Lazzarotti vieni a condurre tu l'intervista per favore vabbè ci abbiamo sono abbonata in Tevere comunque ne teniamo uno anche noi fra di noi insomma chiaramente per motivi legali cioè ci costringono a averne almeno uno vabbè io salterei questo argomento che non è andato a buon film sono sempre la tua presidente no aspetta adesso c'è mi fai vedere quell'altra foto di quell'amichetto nostro che ogni tanto ci capita perché è stato in comune con un sacco di amici miei perché ma qui perché io ho letto una cosa che non ho capito se c'è qualcosa di vero probabilmente è una cagata ma da qualche parte ho letto che tu avresti fatto forse un film di Angelo che però non si è visto no no è uscito ma qual è allora si fa una figura di merda ma qual è il titolo era aspetta perfetto salutiamo Angelo Rolando ragazzi sono passati 23 anni saranno passati avevo 22 anni beh non mi ricordo ma scusa non l'hai visto su Wikipedia no in realtà quello che ho trovato è qualcuno sfiorati può darsi sfiorati lui non ci ha scritto lì veniva detto un film se qualcuno a Wikipedia potrebbe andare un attimo a vedere dirci il titolo cioè il primo che lo dice no detto questo Angelo questo te lo dico perché ovviamente non hai assistito agli altri podcast è stato nominato tante volte e ne ho scomerte veramente tante di cose in più di una mente un po' criminale ma anche geniale brillantissimo ha scritto alcune delle cose più belle che mi è capitato di vedere anche i piccolissimi testi ogni tanto ci capita di raccontare del locale di Roma tu sei della generazione dopo quindi l'hai vissuto marginalmente ma Angelo aveva fatto un paio di spettacoli teatrali veramente strepitosi in cui sono sbocciati i vari Valerio Marco Giallini eccetera si si era molto brillante molto intelligente ironico e dolcissimo e fatelo a passaggio dell'Orlando che se lo merita anche se sta a Barcellona per non pagare le tasse poi e poi in comune abbiamo anche un film in cui in questo caso non facevo lì non partecipavo per fortuna del film se non con una canzone abbiamo c'è un pezzettino del trailer che forse nel giardino di psiche che stasera abbiamo pure cantato a un certo punto è stata un'esperienza questa è stata un'esperienza incredibile ma infatti ti volevo chiedere perché non abbiamo mai parlato tutta colpa di Freud e dei suoi sordidi inganni se le cose fra noi sono sempre le stesse danni e poi è colpa sua se non ti so che me ne trattate è molto carino degli incontri imprevisti delle scelte sbagliate dei dolori pregressi dei peccati commessi una sera d'estate delle mille promesse mancate la colpa sarà di chi le avrà ascoltate va bene non lo vediamo tutto ma era era molto carino però mi interessava anche chiederti del ruolo sì anche perché mi sa non è l'unica volta che ti è capitato di no io ho fatto varie volte ho interpretato varie volte la parte di una donna omosessuale varie volte ma questo è stato molto divertente perché qua c'era una crisi cioè lei gli diceva talmente male con le donne che voleva provare con gli uomini ma con gli uomini ha detto pure peggio perché ovviamente cioè come devo dire no scherzo mi ricordo che c'era una battuta che è geniale che la sorella la chiamava dice no come è andata la colpa dice no ma la colpa non è andato bene ma perché madame è un po' sciecco uno che c'è al culo più piccolo del tuo effettivamente però era stupendo perché c'erano tutti amici Edoardo Leo Gianmarco Tognazzi poi Vittoria Puccini che anche lei è diventata presidente di un'altra associazione di categoria che è unita un'altra battagliera stupenda però questo film è stato fondamentale nella mia carriera perché mi ha fatto fare questo incontro bellissimo con Paolo Genovese col quale poi ho recitato anche in Perfetti Sconosciuti che è stato un film meraviglioso filmettito da niente e poi Marco Giallini che è un mio carissimo amico a cui voglio molto molto bene Ma è vero che l'americana l'ha trovata al bar non si trovava questa ragazza l'ha trovata al bar tra l'altro questa ve lo devo raccontare faccia un po' la coatta perché poi tutto attrice americana studiavo il metodo Strasberg eccetera noi venite dall'Italia sempre scappati da casa faccio vedere io infatti appena iniziato le cose lei dice no adesso studiamola proviamocela sì abbiamo provato poi appena è partita la scena quella spinta in cui me la dovevo proprio insomma paccare lei ci è rimasta sotto paura stella il metodo guarda io vengo da testaccio il metodo lo spiego io vi è qua amore vi è qua amore ti mette al muro una no ti mette al muro una no soltanto lei però mi sembra cinque però non mi ricordo non mi ricordo non mi devi fare troppo domande te ne faccio una peggio ma è più stupida perché appunto ci sono un po' di ricorrenze un po' di cose che capitano che sembrano sempre incastrate mi fa vedere quell'animale che avevamo scelto a Silmoro perché quando cercavo cose in comune per me la pantera è il momento in cui io frequentavo l'università c'era il movimento della pantera erano anni insomma stiamo parlando della pre-storia probabilmente non c'entra niente ma io ho letto che tu c'hai avuto tre fidanzati che tutte e tre si chiamavano il pantera sì c'ho avuto pure un giaguaro un puzzola c'ho avuto vari animali praticamente per cui insomma all'epoca si dice c'ho avuto pure un cagata perché ogni volta questo si sedeva al parco finiva sempre il presto una merda quindi lo chiamavano il cagata però con lui non c'ho avuto una storia soltanto una trescata una sera però diciamo col pantera sì c'ho avuto tre pantera queste sono le cose importanti no? della vita beh quello che racconterò i miei figli in punto di morte cade in piedra quello che racconterò bello di mamma te volevo dire che mamma c'ho avuto un passato animalesco e poi ci abbiamo un'altra persona in comune di amici vabbè sono una quantità e quasi tutti li abbiamo messi nelle nostre varie battaglie e chat però c'è un'amica in particolare ne abbiamo parlato pure oggi da un altro punto di vista che è Palletta Cortellesi a parte ci sono delle scene in questo film pure devo dire abbastanza iconiche noi siamo finiti nel sai c'è il circolo Arci quello c'è questo gruppo Facebook dove praticamente tutti i fan di Carlo Verdone mettono e caricano i pezzi più importanti dei film di Carlo e ci sono poi dei pezzi iconici anche di altre commedie e io posso freggiarmi di essere nel circolo Arci io ho due grandi soddisfazioni essere finita sulla settimana enigmistica e di stare nel circolo no Arci Aci Aci che dico cretina Aci soci Aci però non ci ho capito niente vi ricomincio io posso freggiarmi di due grandi cose nella mia vita No non togliamo niente è bello così Vabbè comunque Paoletta che sta vivendo un momento d'oro Ebbè Ma Guarda io penso questo ci sono persone che ho sentito dire anche vabbè ho sentito dire tanto sul film di Paola ma io quello che dico è che Paola è militante un po' come noi da sempre cioè quello che Paola ha messo nel suo film lo pratica lo predica lo studia lo analizza lo vive da sempre quindi quello che le è arrivato in questo momento non è fortuna è semplicemente il risultato democratico secondo me e meritocratico di una donna che forse è la donna più talentosa che abbiamo nel nostro panorama ma molto più secondo me lasciatemelo dire secondo me molto più anche delle grandi dive del passato e non ho paura nel dire questo perché le grandi dive del passato sono sempre state affiancate e aiutate da grandi autori Paola Cortellesi invece è Paola Cortellesi senza uomini accanto produttori accanto mariti amanti accanto anche se è sposata con uno straordinario regista ma Paola Cortellesi è Paola Cortellesi sono d'accordissimo altre cosette in comune ti metto adesso ti metto un paio di immagini ma queste sono proprio minchiate tanto per andare verso la conclusione in cui di nuovo però ti porto a parlare di un attimo di cose serie ti obbligo il megafono è un pezzo importante della mia storia in qualche modo mi lo dicevo all'inizio lo spettacolo mi rappresenta un po' un po' un marchio e mi piace molto e tu hai fatto un film uno spettacolo che si chiama La bimba La bimba col megafono dovevo intitolarsi il comunismo mi ha rovinato la vita ma mi hanno detto che da Roma in su non vendevo e allora ho detto vabbè e cambiamo la bimba col megafono va bene anzi è bello mi piace molto sì è la storia di questa bambina che è la storia un po' della mia vita che già nella pancia di mia madre ero convinta che avrei salvato il mondo e che già lottavo perché l'embriola mi sembrava troppo stretto e quindi e quindi di fatto di fatto è un po' l'analisi di questa donna che parte dalla sua ideologia politica e poi adesso non ho neanche più ragione per esistere però insomma il megafono mi sembra anche a me uno strumento fondamentale per amplificare i pensieri e i sentimenti un'altra cosa che è più una parola ma che in qualche modo mi rappresenta è questa che c'è qualcuno in sala che è tra i responsabili di questa scritta e di questa famiglia che si è voluta chiamare i testardi perché te ti definisci testarda molto spesso ho visto un po' di interviste di cose tue ed è una cosa che dici piuttosto spesso allora tradimento ma non lo faccio apposta perché mi sono scordato di dirtelo prima se per caso dopo che abbiamo finito le nostre cose tu ti dovessi fermare sappi che noi finiamo molto probabilmente dicendo quella parola lì ti dovessi andare di raggiungerci va bene adesso le ultime cose e poi questa chiacchierata la possiamo considerare fatta una è che ti utilizzo in questo caso perché è un'altra cosa in cui sono stato un po' io a coinvolgerti ma eri già consapevoli di tutto però mi interessa quando c'è qualcuno che come me fa parte anche di questo comitato ulteriore che è nato che si chiama Salviamo la Ex Civis mi va di parlarne lo facciamo in un minuto lo faccio anche io e cioè stiamo parlando di una realtà che sta peraltro a poche centinaia di metri da qui dall'altra parte del Tevere e che corrisponde appunto a quella che viene chiamata la Ex Civis ma in realtà è un teatro il teatro Edoardo De Filippo una scuola la scuola di alta formazione officina Pierpaolo Pasolini e uno studentato attualmente non in uso che conta almeno 400 posti letto per gli studenti tutto questo soprattutto il teatro e la scuola sono funzionanti e sono non solo funzionanti sono una delle poche cose di cui non so quanti di voi ci sono mai stati hanno avuto la fortuna di vedere uno spettacolo gratuito peraltro là dentro ma una delle poche cose di cui si può essere orgogliosi pure quando vai in giro all'estero e vedi cose meravigliose tu puoi dire ma noi abbiamo una cosa bellissima che funziona benissimo che fa studiare un sacco di gente gratis che produce cultura nel senso anche più semplice del termine ma in continuazione e peraltro quando si parla di un teatro io poi ci metto magari la mia parte un po' affettiva sapere che un teatro potrebbe cessare di esistere è sempre un dolore quasi insopportabile eppure quello sta succedendo quindi se adesso non vi tedio ulteriormente però per favore informatevi e se informandovi doveste capire come pensiamo noi che tutto questo è assurdo e ci sono ovviamente un sacco di soldi dietro quello che sta per succedere state attenti e magari alzate pure la voce perché se stiamo zitti e lasciamo che cose succedano non cambierà mai un cazzo infine ti coinvolgo pure un'altra cosa perché so che condividi e che ci è stata pure chiesta e mi va molto di farlo un'altra delle tante storie per cui può valere la pena alzare la voce è quella che riguarda un insegnante di questo paese che si chiama Ilaria Salis lo diciamo perché oggi c'è stato un importante raduno perché domani è una giornata fondamentale in Ungheria a Budapest ci sarà un passaggio anche cruciale dell'udienza e del processo e la speranza e forse l'unica cosa logica è che possa essere stabilito per lo meno che Ilaria possa andare agli domiciliari sarà domani il giorno in cui questo potrà accadere al di là di tutto quello che è successo e del perché si trovi lì e delle differenze gigantesche tra come funziona la legge e penso che non si tratti tanto di opinioni la sua storia la storia di Ilaria parla per lei la sua esperienza di maestro e di insegnante parla per lei e in fondo sta in carcere in quanto antirazzista e antifascista e antifascista fondamentalmente questo succede ma in questo momento ormai è un anno sta in un carcere in condizioni condizioni disumane e se vi capita recuperate online la lettera che ha scritto Ilaria perché è una lettera bellissima è una lettera che parla di una donna che è da un anno reclusa in quel carcere e che comunque ha un'attenzione e un profondo spirito e senso di empatia nei confronti di tutto l'orrore che sta succedendo fuori da quel carcere quando un essere umano che vive sul proprio corpo e sulla propria pelle un tale dolore una tale come dire violenza pensa agli altri per me non può che essere innocente amici di Testaccio amici di Garbatella amici di Roma amici di Italia ma anche amici di Fleming anche amici di Fleming siate orgogliosi di avere come concittadina Anna Foglietta grazie grazie Daniele alla fine è meglio suona un po' meglio ti posso dire che a me piace un sacco prima metto come sveglia vabbè ora ci possiamo alzare siamo liberi